Sì Mentre arriva in questo momento anche Toretone Sì, 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 la battaglia, tutta la gentile va a porte Oh, ma hanno detto tutti i tre che sono la gente prima del termine Volevo vincere Eh, speriamo di vincere anche noi E metteremo anche spettacolo per il pubblico Bravo, ma come sono andato il progetto? Buongiorno Vai, vedi, per la moto Buongiorno Buongiorno Perché, ecco, sì, passiamo... Allora, stai C'è... Qua... Quale... Quanti... Ma quanti non l'hai fatto questa... Questa... No, di quanto No, di quanto No, di quanto No, di quanto Di quanto No, di quanto Poi Perciò Qui Facumbledore Il nostro canale è www.mesmerism.info 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 questo non lo so non ti vuoi esporre no no, non lo so troppo ok grazie abbiamo sentato i tuoi buon anni invece c'è un distattivo del Parigi è un distattivo del Monza è qui, è qui è il mio nonno tu devi solo sborderare allora chiedi no 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 aspetta il tuo ordinatore ho detto che con te in macchina non so se hai già detto che è vista da 30 minuti ebbene, quanto è passato? non so se lo andiamo a vedere io non so se è molto da qua il primo di giro è contattiva e il giro è un vecchio peso quindi non ho fatto anche la estrella grazie moltissimo perché abitando a Grano Bosoglia e quindi comportando il Gli Europeo e quindi dopo il Gli Europeo il Gli Europeo ok ok la simpatia di Santini è un bel perché non è proprio la scuola orche 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 il 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 Sì, non lo tolgo. Anche per la F5 è una diversa da scoprire, ma è molto bello perché mi sono riusciti al massimo che mi sono andata alla volta. Il boccano con Marco, il boccano con Gigi, davvero che sia un grande rally di attività di Gigi e Gigi e Gigi. Tutti che mi dicono che devono partire. E allora andiamo al Hyundai con Dani Sordo. Dani Sordo, seconda volta al Regno Nord. Sì. Very good job. Cal. We try to win, no? Like everybody, I think. Ah, l'ha dichiarato! Sordo vuole vincere! Bene, Dani di Mocanupo è via! Dani Sordo e questa è la G20 di casa Hyundai, protagonista davvero di una stagione di Monabie, non quella di F5.